Io credo che questo memoriale nel momento in cui sarà attivo non dovrà dare a chi lo visiterà un pacchetto di valori. Io credo che dovrà servire essenzialmente a che i visitatori possano uscirne con una capacità accresciuta di pensare liberamente e di pensare in modo più profondo a partire dalla capacità che acquisiranno di misurarsi con un'esperienza concreta. Un'esperienza straordinaria ma piena di contraddizioni. Io credo che queste contraddizioni devono emergere dalla ricerca che fino adesso è stata svolta ma che dovrà continuare anche nel momento in cui si porranno le basi e via via si creeranno le condizioni perché questo memoriale possa effettivamente essere realizzato. Questa esperienza dovrà essere in qualche modo filtrata e riproposta in modo essenziale e per far questo ovviamente bisogna continuare a studiare e bisogna anche pensare a come i risultati di questo studio debbano essere comunicati. A questo punto io lascerei la parola ai relatori. Cominciamo da Nicola Stargardt che insegna a Oxford e che si è occupato e continua a occuparsi di storia sociale della Germania nazista. Ripeto il titolo della sua relazione, io credo che i titoli abbiano la loro importanza. in questo caso il titolo è Nascondersi e fuggire ragazzi ebrei nel secondo conflitto mondiale. A te la parola. Mille grazie di essere qui con noi ma il povero italiano mio non va quindi passo all'inglese da ora in poi. Beh innanzitutto quando Benedetta mi ha mandato l'invito mi ha chiesto se avrei parlato di ragazzi nascosti durante il secondo conflitto mondiale. Ebbene quando mi ha proposto questo tema ebbene questo ha prodotto in me quello che Guido Pisi e Maria Bacchi hanno citato cioè quest'idea di una scienza frammentata. Ebbene purtroppo sono rimaste poche le evidenze quasi come in un mosaico andato in pezzi. Un mosaico che noi dobbiamo cercare di ricostruire alla cremente. Ebbene i nazisti hanno cercato di sterminare la popolazione ebraica dell'Europa e questo ha portato a quasi 1,2 milioni di bambini vittime. Hanno ovviamente cercato di distruggere la vita. Volevano distruggere la vita in tutte le sue forme ma c'è stato anche uno streno tentativo di salvare la vita che ha portato a una pluralità di storie non solo una ma tantissime storie che si sono dipanate. Ebbene oggi pomeriggio vorrei proprio concentrarmi su questo. Quando ho pianificato questo intervento non sapevo che si sarebbe svolto in un teatro che è anche un cinema che è davvero il luogo ideale dove poter osservare delle immagini ma anche delle sequenze, sequenze di immagini girate durante la Seconda Guerra Mondiale. Credo che un elemento che è sempre più chiaro è che soltanto negli ultimi vent'anni che gli storici sono stati in grado di trovare metodi per parlare di questo tipo di storie, di questa storia, anche trovare i concetti adatti perché si è parlato per lungo tempo su come raccontare la storia delle esperienze sociali, delle azioni sociali ma non si è mai parlato delle azioni collettive come ad esempio negli anni invece 70 si è parlato della soggettività individuale, del fatto di questi bambini, bambini la cui identità è stata cambiata per il semplice fatto di essere nascosti perché hanno dovuto cambiare la loro identità, spesso la religione, anche le lingue e poi se riuscivano a salvarsi ebbene potevano cominciare a raccontare le loro storie ma si sono trovati anche a dover affrontare lingue che non conoscevano all'inizio della loro esperienza. Quindi tutto questo ha implicato un processo di autotrasformazione mentre anche il mondo intorno a loro continuava a essere stravolto e cambiare. È ovvio che esperienze del genere non lasciano immuni e indenni. Ebbene la storia con cui voglio cominciare riguarda il Belgio. È un bambino rumeno che ha 5 anni e che si chiama Andras Apkatel che vive a Ghand con i suoi genitori, con il suo fratello più grande Claude. Ebbene, nell'autunno del 1942 lui è una ragazzina ebrea, vengono presi in affidamento da una famiglia belga molto ricca, Ide Brower. La ragazzina è la prima in bicicletta, si chiama Monique Moguluski e Adrien, ebbene lo vedete fa un secondo, è nel carrettino trainato dall'asino. Stanno andando a scuola, è una famiglia molto cattolica e in una cittadina che si chiama Saint-Denis-Vestrem, fuori Ghand. Si tratta anche di una famiglia molto abbiente e la prima sera, quando questi due ragazzini ebrei raggiungono la famiglia composta da sette persone, raggiungono quindi questa famiglia che è riunita per la cena in questo grande caso imponente. Ebbene, quella sera addirittura il piccolo Adrien fu sopraffatto da tante emozioni che addirittura rimesse, vomitò proprio per le emozioni, ma alla fine i due ragazzini, i loro ragazzini e la ragazzina, riuscirono a integrarsi con il resto della famiglia e come vedrete, ebbene, riuscirono a vivere con loro, non potevano però allontanarsi dalla casa. Ecco, questo è un membro della famiglia molto importante, si chiama Adolf. Adolf, ebbene, durante la seconda guerra mondiale c'erano motivi per chiamare un maiale in Belgio Adolf, perché era un soggetto di cui si poteva controllare il destino, ebbene, ebbene, Adolf non sarebbe sopravvissuto, è chiaro la guerra, ebbene, questo è il piccolo Adrien che gli dà dei calci, ebbene, e in questo mondo salvo, in questa sorta di bozzo fuori Gand, ebbene, la vita di questi ragazzini cambiò, anche se i suoi genitori erano stati denunciati da un vicino di casa, da un insegnante, e erano stati arrestati poco dopo che il fratello più grande era stato preso in affidamento e nascosto da qualcun altro. Nel 1945 il padre tornò devastato da Auschwitz, da Mauthausen, da Buchenwald, e era emaciato, la madre addirittura non tornò mai. Negli cinque anni successivi la famiglia rimase a Gand, ma a quel punto Adrien era diventato Adrien Simon, e inoltre Adrien voleva poi essere cattolico e non più ebraico, e i Debrouwer erano determinati dal fatto che doveva mantenere il suo retaggio ebraico, però lui al tempo stesso voleva essere parte di questa famiglia, non voleva più tornare nella sua vecchia famiglia. Non so se qualcuno ha mai letto il bellissimo memoir di Friedlander, lo storico, sul fatto che lui stesso era stato nascosto in un convento cattolico in Francia, dove poi lui era diventato davvero cattolico, ebbene, voleva diventare un gesuita, ma, ebbene, fino a quando poi venne a sapere cosa era successo ai suoi genitori e decise di riconvertirsi alla religione ebraica. Ebbene, a Adrien Simon successe qualcosa di simile. Ovviamente si tratta di una ricerca di un'identità stabile, di un porto sicuro in un mondo non più sicuro e non più stabile. Ebbene, vedete che ci spostiamo nell'ambito di diversi contesti, di diverse storie. Qui vedete un modulo ufficiale di un istituto psichiatrico a Hadamard, a nord di Francoforte, in Germania. Questo fu uno dei centri per l'eutanasia dei pazienti psichiatrici. Oltre 10.000 persone furono assassinate nelle camere a gas, oppure dopo l'agosto del 1941 furono avvelenate, quindi in modo più discreto. Questo modulo fu scritto nel giugno del 1943 da un ragazzino a metà ebreo. E a quell'epoca, appunto, i nazisti avevano iniziato a assassinare pazienti psichiatrici e avevano individuato però intanto dei bambini in Baviera che erano di origini miste ebraiche, li avevano mandati a Hadamard. Erano una quarantina e chiesero a questi bambini di fare delle cose. E la prima cosa che chiede Alfred Fölker fu di scrivere la sua storia. Lui veniva da una famiglia della Baviera normale. Lui non sapeva che suo padre fosse ebreo perché sua madre era una madre singola. Lui non aveva mai conosciuto il padre. Sua madre era una cattolica della Baviera e lui pensava di essere tedesco e basta. Ma poi era stato messo in questa sorta di orfanatrofia perché poi la madre aveva sposato un'altra persona e quindi lui era stato messo in questa struttura. E il suo sogno era quello di poi fare l'impiegato ma finì in un apprendistato per il legatore. Ebbene, lui riuscì poi anche a contrabbandare una lettera, a farla uscire dall'istituto psichiatrico e a mandarla al suo zio che era un caporale tedesco sul fronte orientale per chiedergli aiuto. Ebbene, a quel punto sapeva perché aveva capito che in quel luogo dove era c'era morte dappertutto e ogni giorno era un dono poiché ogni giorno doveva passare attraverso i reparti dove i bambini venivano lasciati morire da sintomi che erano simili a quelli della polmonite con polmoni di fluido e lui sentiva i rantoli della morte. E quindi lui doveva passare da queste stanze per mettere in ordine i vestiti dei bambini che erano morti. Sapeva che quindi ogni mattina era un giorno in più regalato. Dopo quattro mesi fu rilasciato per una sorta di cavillo della legge perché il suo zio era riuscito a provare che lui era il tutore legale di quel bambino e non l'ufficio della previdenza sociale di Norimberga. Quindi quel bambino non era carico dello Stato e quindi grazie a questo Alfred fu rilasciato e riuscì a fare qualcosa che molti bambini ebrei non riuscirono mai a fare. Quindi riuscì a tornare a casa, si unì alla gioventù nazista e itleriana e addirittura combattendo le fila dell'esercito fu catturato poi dagli americani, dagli alleati e poi dopo la fine della guerra, appunto, e poi tornò negli Stati Uniti dopo la fine della guerra. Ma soltanto nel 1996 tornò ad Ademar e solo quando poi nell'ufficio lesse la sua pratica e riuscì a capire anche cosa veniva fatto là, come venivano selezionate le persone. Ebbene, lesse la sua pratica e capì finalmente perché era stato mandato lì. Fu la prima volta che capì che suo padre era ebreo. Ebbene, una storia molto complicata, anche di vergogna, di vergogna all'interno di una famiglia cattolica che aveva negato questo retaggio ebraico a quel bambino e che l'aveva rifiutato al tempo stesso. Quindi questo fu oggetto quindi di un grande trauma e un archivista poi durante le sue memorie spiegò che la persecuzione era qualcosa di intimo e per questo bambino c'era stato un doppio rifiuto perché appunto la madre l'aveva rifiutato che aveva preferito poi costruirsi una vita con un'altra persona e abbandonarlo all'un orfanatrofio. Ebbene, il terzo caso di cui voglio parlarvi riguarda i disegni di una ragazzina che si chiama Nelly Landown di origine polacca che riuscì a sopravvivere nel ghetto di Love, quindi nella Polonia orientale vicino all'Ucraina oggi che ha sempre avuto una popolazione mista di polacchi, ebrei, ucraini. Nella primavera del 43, quindi prima che Alfred andasse ad Annamar, ebbene riuscì a scappare dal ghetto. I primi due tentativi non erano andati a buon fine perché appunto le storie di copertura non erano andate a buon fine, quindi sul tentativo di imparare il catechismo. Ebbene, la terza volta invece riuscì a fuggire e fu trovata una casa proprio nella zona occupata dal personale tedesco e insieme alla madre appunto riuscirono a nascondersi lì in una stanzetta, in un appartamento che era occupato da quelli che prima erano inquilini, affittuari, perché questo palazzo era di loro proprietà in passato. Erano Milhau e Ron Krisha, quindi, che si presero cura di questa bambina e di sua madre, e questa stanzetta aveva una nicchia dentro una finestra che dall'esterno sembrava murata, ma in realtà aveva uno spazio ed era coperta da una sorta di arazzo, quindi c'era questo nascondiglio che permetteva quindi di nascondersi in modo tutto sommato sicuro. Ma il loro principale problema non era la paura ma la noia, perché non potevano andarsene. E allora questa bambina, per ammazzare la noia, comincia a scrivere disegni che illustrano le storie che la madre le racconta per tenerla occupata. Quindi sua madre le fa anche da maestra, da insegnante e poi le racconta i miti greci e anche altre storie, anche storie del folklore russo. Ebbene, lei disegna anche quello che vede fuori dalla finestra. Lei non può assolutamente uscire di casa, allora vede solo dalla finestra delle sagome delle persone e allora, ad esempio, disegna le altre ragazzine che vanno a scuola con la maestra e poi inventa anche delle storie, quindi fa dei disegni che illustrano, ad esempio, il modo in cui la madre cerca anche lei stessa di ammazzare la noia, ad esempio fa maglia. Qui vedete appunto Eva, Eva che fa la maglia, questo personaggio immaginario che lei crea. E questo mostra uno dei veri e pochi momenti di vero pericolo. Qualcuno era venuto a visitare i Wojtek inaspettatamente e la madre e Nelly corrono nella stanzetta per nascondersi e lei fa cadere un gomitolo di lana che rotola e ovviamente non riesce a raccoglierlo. Le persone vedono questo gomitolo che scorre e dicono ma chi è che si nasconde? Ebbene, per fortuna però il filo viene rotto dal chiudersi della porta e quindi il gomitolo viene raccolto dalla signora Khrushchev che diceva no, nessuno. Però vedete appunto che questo gomitolo è al centro di questa immagine perché poi quel momento rimane impresso nella bambina. Quello che è interessante su questi disegni è che in un certo senso capite bene che è difficile in una situazione come quella di nascondiglio potersi procurare dei colori. Beh, in questo caso i colori venivano da un vicino comunista dei Wojtek, una persona, una donna, Olga, l'unica persona che oltre appunto a queste persone che nascondevano questa donna e questa bambina sapeva della loro presenza. Ed è molto importante soprattutto quando si parla delle specificità di Nonantra e di Villa Emma che tutti sapevano dei ragazzi di Villa Emma e quindi il clima di fiducia perché questo ci riporta al chi fidarsi, di chi non fidarsi in queste situazioni, cose molto complicate perché ci sono persone che possono aiutare ma che possono anche ricattare perché l'aiutare e il non aiutare non sono situazioni nette, ci possono essere anche situazioni appunto intermedie, molto complicate, ma molto ambigue. Ma voglio anche ricordarvi che una delle prime cose che avviene quando ad esempio si arriva l'occupazione nell'Europa orientale e poi nel resto dell'Europa è che appunto le mura sicure dell'infanzia vengono distrutte e quindi i bambini diventano attori sociali, non sono più oggetti o soggetti passivi. Ecco, qui vediamo un gruppo di bambini ebrei e polacchi che sono a Varsavia e che sono riusciti a sopravvivere alla distruzione del ghetto di Varsavia e che nell'autunno del 42, scusate, 43, quindi dieci mesi prima della rivolta nel ghetto. Ebbene, durante questo periodo di 16 mesi riescono a vivere in strada, non come ebrei ovviamente ma come polacchi, spacciandosi per i polacchi. Ebbene, qui vedete il leader del gruppo che si chiama Bull, quindi Toro come soprannome e lui ha questo amico che invece ha questo naso tipicamente di tratti ebraici e infatti viene chiamato Nasone con il soprannome. Ebbene, sono entrambi, diciamo, leader del gruppo. Ebbene, Bull era assaltato giù da un treno ed era, si era salvato, ma non sapeva dove andare e quindi era tornato in città perché non sapeva dove nascondersi in campagna, era troppo pericoloso stare in giro. E nell'autunno del 43 vengono poi aiutati, vengono individuati da un membro del gruppo clandestino socialista che li trova, li trova in una mensa, comincia a parlare loro e si rende conto subito chi sono, cioè, ma visto che ha collegamenti con questa rete clandestina socialista che è una delle poche organizzazioni non ebraiche che cerca di aiutare le ebrei, allora cerca di ottenere dei documenti falsi per loro e quindi questo diventa un fattore chiave per la loro sopravvivenza e creano poi una rete in cui, ecco, altri ragazzini cercano di contrabbandare uniformi tedeschi per la resistenza polacca e soprattutto cercano di mantenersi vendendo sigarette quindi stanno in una piazza al centro della Varsavia tedesca dove appunto ci sono ristoranti solo per i tedeschi con scritte come entrata riservata solo ai tedeschi e devono anche competere con i venditori di sigarette polacchi per ottenere uno spazio in strada ma sono così bravi che riescono a guadagnarsi abbastanza denaro anche per farsi fare delle foto ebbene, queste sono proprio foto originali dell'epoca e quindi riescono davvero a mantenersi e ad esempio questi ragazzini addirittura ottengono delle uniformi tedesche con cui si travestono e quasi andando a terrorizzare o minacciare gli altri ragazzini mostrando il loro potere e la loro capacità ebbene, quando poi c'è la rivolta in città, poiché c'è un grande caos ma il leader del gruppo lui stesso si unisce alla rivolta e cerca proprio di unirsi anche alla parte liberata di Varsavia altri non hanno così tanta fortuna e dopo la rivolta nel periodo successivo ebbene, tutta la popolazione viene deportata fuori dalla città e Varsavia viene distrutta completamente da Himmler e vengono portati a campi di lavoro in Germania e in questa atmosfera di sconfitta cosa succede? bene, c'è anche una riscoperta dell'antisemitismo proprio tra i civili polacchi in questi campi e le ragazzine, ecco, come Stef sia qui, devono essere protetti dai lavoratori del Belgio nel campo altrimenti c'era un grande rischio che fossero denunciati ai tedeschi questi bambini, questi ragazzini come questa ragazzina ebbene, queste storie di sopravvivenza avvengono in tutta Europa, di salvataggio in tutta Europa e in circostanze anche molto variegate e diverse e quindi la metodologia della microstoria, dei microcosmi è l'unica possibile per capire la varietà di queste storie al cui centro ci sono giovani, bambini, adolescenti che devono imparare ad agire e imparare ad agire e imparare a sopravvivere, ebbene, non sono cose che finiscono con la liberazione quello in un certo senso è solo la fine di una parte della storia perché sopravvivere non è chiaro cosa significhi e negli ex campi di lavoro, anche negli ex campi di concentramento della Germania dopo il maggio del 1945, ebbene, questi campi diventano campi disfollati e anche ieri sera si è parlato di disfollati come figure ebbene, i sopravvissuti ebrei molto presto cercano di andare verso il sud perché ci sono dei campi specifici per gli ebrei creati dagli americani e quello che è interessante, ebbene scusate, credevo ci fosse una slide diversa ok, rimaniamo su questa, grazie bene, questi sono molto interessanti perché alcuni bambini di questi campi circa 300 di essi, soprattutto da Buchenwald quindi quelli che rimangano lì dopo le marci della morte da Auschwitz appunto arrivano a Buchenwald o a Mauthausen e a Buchenwald ci sono molti bambini che nell'estate del 1945 vengono portati in Svizzera per una riabilitazione fisica e psicologica e gli assistenti sociali che lavorano con loro li incoraggiano a disegnare come una forma di terapia e anche come una forma di terapia, per così dire, giocosa, divertente e osservano anche attentamente i giochi che fanno questi bambini uno dei giochi, ad esempio, consiste nel riprodurre le situazioni che hanno visto nei campi quindi, non so, l'appello, l'azione e riproducono l'intera vita nel campo e qui vedete un ciclo di 12 disegni di un ragazzino polacco ebraico che si chiama Karman Landau di 16 anni che crea una cronologia comincia con l'arrivo quindi nel campo e quello che vedete è che vedete non disegna come un 16enne ma come un bambino di 8 anni quindi sembra molto più giovane dai suoi disegni perché l'ultima volta che aveva disegnato eravamo fatti molto più giovane quindi qui c'è lo sviluppo interrotto di qualcuno che adesso, appunto, può disegnare di nuovo vengono dati di nuovo colori quindi può farlo di nuovo e cerca di descrivere per la prima volta qualcosa che ha vissuto e vedete che le SS nelle uniforme verdi che sono molto molto più grandi come taglia, come corpo degli adulti e dei bambini e vedete questo quando arrivano ma anche quando fanno l'appello nel campo ecco, vedete vedete che tutto è disegnato davvero con una grande dovizia di particolari tutte le uniformi e tutti i dettagli vedete che ci sono tratti individuali tutte queste figure di controllo di prigionia, di guardia vedete che sono pieni di dettagli qui c'è una fabbrica una fabbrica e vedete che la massa indistinta dei prigionieri sembra quasi come un gruppo di studenti ma è solo alla fine quando Buchenwald ecco, qui vedete anche come sopravvivere nel campo quindi come ci si procuravano le cose rubacchiandole ecco, qui di nuovo un altro appello questa volta di notte fatale per i prigionieri poi ci sono appunto esecuzioni pubbliche poi le marci della morte fuori da Auschwitz c'è un tentativo di fare qualcosa che ovviamente nessuno aveva mai visto ma di rappresentare le camera gas di Birkenau in Auschwitz uno, beh quindi nessuno si era mai reso conto che il crematorio in realtà era all'entrata e non sopra la superficie ma sotto terra ebbene poi vedete le marci della morte le evacuazioni verso Buchenwald i prigionieri che vengono ammassati come legno su queste strutture e poi alla fine il momento cruciale quando i carri armati americani arrivano ai cancelli di Buchenwald e anche i clandestini comunisti quindi guidano la rivolta nel campo un momento molto celebre e anche qui vedete che le guardie non sono ancora più piccole dei prigionieri i prigionieri adesso sono quelli col potere quindi hanno sono più grandi ma vedete ancora il filo spinato e vedete ancora queste guardie molto grandi e poi alla fine l'immagine finale è l'arrivo vicino a Schaffhausen e quindi il punto di liberazione fino al momento presente in cui disegna tutto questo quindi un ciclo di disegni che rappresenta anche la cronologia i progressi che in modo quasi impercettibile e invisibile come evolve la sua storia raccontata dall'esterno e quindi gli assistenti sociali britannici che lavorano con questi bambini si rendono conto che raccontano queste storie quasi con distacco come se fossero capitati a qualcun altro quasi senza emozioni senza quella sorta di interiorizzazione che invece di solito si presume sia avvenuta senza un'espressione soggettiva di quello che esprimano e credo che questo sia un aspetto importante da considerare soprattutto anche in questo passaggio psicologico perché la cosa più importante è che sì probabilmente c'era stato un trauma ma si può vedere anche in un'altra ottica un momento in cui hanno bisogno di raccontare una storia che nessun altro dall'esterno ha visto ebbene quindi l'elemento più importante per loro è lo stesso è proprio l'aspetto fattuale di questi eventi non tanto l'esperienza ma il fatto che sono avvenuti siamo oggi in un'epoca in cui siamo sempre concentrati sugli aspetti emotivi emozionali ma bisogna capire che per quella generazione per loro l'evento stesso e il fatto che avesse avuto luogo era l'elemento più critico e cruciale ah scusate pensavo di avere più immagini da mostrarvi ma quello che volevo sottolineare ebbene quello che volevo sottolineare è che queste storie di quasi scoperta autoscoperta della propria storia sono avvenute subito dopo la fine della guerra pensate a Primo Levi al suo memoriale bene l'ha scritto subito dopo il suo ritorno e l'idea anche che i sopravvissuti abbiano potuto parlare solo molto tempo dopo in realtà non ci dice molto sulle società in cui erano perché erano società che non erano pronte a sentire quelle storie c'è stato un periodo ebbene in cui questi disegni nel 46 furono pubblicati su un giornale svizzero ma nel 47 e 48 le persone erano stufo di così tanto orrore non volevano più sentire tutte queste cose e ci sono molti esempi della Gran Bretagna ma non solo di sopravvissuti ebbene che si riunirono ai loro parenti i quali reagirono dicendo non vogliamo sapere le storie dei campi non vogliamo sapere i comportamenti orribili a cui avete assistito ebbene per questa prima generazione ebbene lo stigma morale non terminò con la liberazione anzi l'idea di aver sofferto tantissimo in un certo senso era eroica quasi riconduceva un'idea di martirio ma era qualcosa che molti poi non volevano sentire quindi all'epoca quest'idea di avere una sorta di aspetto eroico fu schiacciata invece dalla necessità di sopravvivere e dal fatto appunto che nessuno voleva sentire un ragazzo che era sopravvissuto ad Auschwitz ed era riuscito poi ad andare in Israele si ricorda che nessuno voleva sentire la sua storia nessuno voleva sentire come si era appunto salvato perché altrimenti avrebbero fatto delle battute cattive se addirittura l'avrebbero chiamato saponetta ebbene questa non era certo l'immagine eroica che il nuovo stato israeliano voleva creare voleva trasmettere perché non era quello il mito che voleva trasmettere non fino agli anni 80 e 90 e quindi si fa fatica ma bisogna pensare alle fasi che queste persone hanno dovuto affrontare prima di poter raccontare la loro storia quindi i ricordi le memorie ebbene sono sempre stati difficili ecco perché le foto e i disegni ci possono raccontare qualcosa di quel periodo ed il periodo immediatamente successivo e credo che il contesto di questo cinema fosse davvero adatto a vedere queste foto ebbene quindi questo è il clima in cui si trovavano a vedere queste persone all'epoca grazie